E finalmente è arrivato il reward di Syndra sul PBE, questo vuol dire che sul server live arriverà il 5 di ottobre, quindi per favore prima di chiedermi quando esce, il 5 di ottobre esce sul server live. Quindi appena la patch dropperà il 5 ottobre potrete giocare questa nuova versione di Syndra. Ho deciso di ovviamente far vedere la skin nuova perché, oh mio dio, fucking queen. Ma il reward di Syndra di per sé mi sembra una bellissima idea con dei numeri che vanno ancora tarati. La direzione è estremamente sensata, con qualche numerino qui e lì che forse forse potrebbero ritoccare nel tempo. Allora, partiamo dalla passiva perché è la parte più importante del kit e la parte più grossa del kit che è stata reworkata, perché va a influenzare tutte le altre spell. Anche se le altre spell hanno subito a loro volta dei cambiamenti, sono molto molto simili a prima, tranne per piccole funzionalità di cui discuteremo con calma. La passiva. Prima cosa era la passiva. Le tue spell arrivano al rank massimo o fanno X cose di più. Semplicemente nel momento in cui tu arrivavi al rank massimo della Q, per fare esempio, la tua Q faceva più danno, la tua W faceva più cose. Ogni spell faceva una cosa in più, oltre alla funzionalità di base. Adesso invece che come funziona? È in una maniera simile alla passiva di Victor, ma allo stesso tempo diversa. Syndra può ottenere fino a 120 frammenti di furia. Rigenera un tot di mana, che è da 20 a 215 mana, ogni volta che ne ottiene uno da un nemico. Le abilità di Syndra sono potenziate dipendentemente dal numero di frammenti di furia che ha collezionato. A 120 frammenti di furia, Syndra ottiene un bonus del potere magico del 15%. È un bonus piccolo, ma comunque importante. Se vai a sommarlo con il Rabadon non è neanche roba da poco. E le dà un minimo di flessibilità in più, anche se immagino che... Non è che dici, ah, smetto di buildare il Rabadon perché tanto questa passiva. No, al contrario, lo buildi proprio perché adesso ottieni così tanto potere magico in più dal fatto che stai prendendo potere magico grezzo. Come collezioni questi frammenti d'Ira? In una maniera molto semplice. Ottieni da 1 a 3 frammenti quando danneggi i nemici con 2 abilità entro 4 secondi. Facciamo l'esempio con Q e W, giusto per avere 1. Vedete come appare questa scia sotto? E 2? Ne ho ottenuto 1 e quindi easy peasy. Ho ottenuto il mio frammento, si è rigenerata parte della mia barra del mana e si conclude qua proprio il discorso. Semplicissimo, no? 5 splinter ogni volta che livelli. Il motivo per cui avevo già 5 frammenti è perché sono arrivato al livello 2 con le abilità e quindi avevo 5 frammenti di base. Quindi ogni volta che io livello un'abilità, facciamo un esempio la E, adesso ne ho 11. Metti un altro anche nella Q, adesso ne ho 16 e così via e così via finché non arriviamo al punto in cui... Vedete? Adesso ho potenziato la Q, la prima spell perché? Perché sono arrivato a 40 stack. Ogni tot stack tu vai a potenziare una delle abilità che hai. Ottieni 5 frammenti quando livelli e un frammento quando uccidi un minion cannone o un super minion. Quindi anche nelle ondate puoi ottenerlo, ma l'idea grossa di questa passiva è il fatto che tu sei spinto ad aggredire il tuo avversario perché A ti rigenerà in mana nel farlo e di conseguenza estremamente comodo per poter rimanere in corsia e B perché ottieni questi frammenti d'ira. I potenziamenti sono a 40, 60, 80, 100 e 120 frammenti. Quindi per avere tutti i potenziamenti ce ne vuole di tempo, considerato che soltanto dai livelli ne ottieni 85 che è 17 per 5, 85, devi arrivare al livello 18 per ottenere tutti quei frammenti. Quindi non è neanche la cosa più semplice del mondo. Il grosso dei frammenti dovresti ottenerlo farmando i minion cannone e danneggiando, aggredendo il tuo diretto avversario. Andiamo a parlare della Q. La Q, come prima, stessa identica cosa, tiri giù una sfera, stonks, si crea questa sfera, danneggi nell'area circostante. Puoi manipolare la sfera con la tua W, con la tua E, proprio uguale e identica a prima. Non è cambiato niente sotto questo punto di vista, proprio 100% identico. L'unica cosa che viene modificata è questo. Adesso non ha 4 secondi cooldown, ma ne ha 7 secondi cooldown. Il costo di mana è stato ridotto da 40-80 mana, dipendentemente dal livello, a 40-60 mana, dipendentemente per livello. Le sfere durano mezzo secondo in più da 6 secondi che duravano prima. E adesso però la cosa figa è questa, è che nel momento in cui tu arrivi a 40 frammenti di furia, Syndra ottiene 2 cariche e tu generi cariche di sfere oscure. Quindi adesso la cosa che puoi fare è questa. Uno e un secondo dopo puoi tirarne già subito un'altra. La cosa comoda è che questo ti permette di fare delle combo più complesse, più aggressive, ti permette di burstare meglio un avversario. La cosa negativa è il fatto che con il cooldown più alto dei tempi di carica della singola sfera oscura ti dà meno modo di pushare le notate minion facilmente, devi investire più mana e più spell per pushare le notate minion. Una delle cose di cui Syndra invece era molto forte e le dava un'enorme flessibilità nell'early game. Il fatto che poteva pushare, aggredire e costantemente fare cose. Adesso invece hai delle finestre di tempo specifiche in cui fare il tuo lavoro. Se tu utilizzi le tue sfere per aggredire, stai aggredendo o non stai pushando. Se tu utilizzi una sfera per aggredire e una sfera per pushare, stai facendo entrame le cose, ma ovviamente fai comunque meno danno di quello che potresti fare. Se utilizzi tutto per pushare, l'avversario si troverà pushato più velocemente. Quindi ora sei costretto a scegliere come utilizzare i tuoi cooldown, i tuoi costi in mana, per andare a massimizzare una scelta di tre. O essere flessibile, o essere aggressivo, oppure essere difensivo, tra virgolette, cioè pushare e andartene. La trovo una scelta apprezzabile, detta proprio schietta e sincero, perché almeno non dai la flessibilità a Syndra di essere troppe cose contemporaneamente. Un mago di solito ha delle debolezze. O fa schifo ad aggredire in early game, o fa schifo a pushare in early game. Syndra era buona a fare entrambe le cose che diceva, beh, ma è l'identità di Syndra, perché? Perché ho campione in early game che snobolla. Giusto, assolutamente. Il che dava un problema, però, perché se snobollava o dovevi bilanciarla attorno al fatto che se snobolla è distruttiva e allora devi farle fare schifo da qualche parte, il mid to late game, come è attualmente per Syndra, oppure la rendevi sbroccata. Molto semplicemente, se la lasciavi forte in quella fase e poi poteva fare quello che voleva, diciamo che diventava leggermente sbroccata. La cosa figa di poter anche tenere due cariche vuol dire che puoi fare più spesso delle supreme con tante sfere insieme. Certo, uno può dire, l'apo anche prima potevi farlo senza problemi, bastava avere un minimo di tempistiche. Diciamo che questo ti facilita il modo di poterlo fare. Cioè, non nell'early game, ma nel mid to late game, avere due cariche e poi piazzare una terza con il ritorno grazie alla BT Ace, è una roba estremamente comoda. Sì, lo so, ho spiegato un sacco di tempo sulla Q, ma la Q è quello su cui si gioca il grosso del kit di Syndra, perché sono le sfere a essere poi manipolate da W e Suprema, insieme, ovviamente, alla sinergia con la passiva. Cosa succede alla W? W non vanno a modificarla pesantemente, sono abbastanza basic. Costi in mano uguali, cost cooldown uguali, danni uguali, easy peasy. Nel momento in cui arrivi a 60 frammenti di furia, che cosa succede? Viene potenziata la W e la W fa il 15% di danni puri in più, prima era il 20%, e scala con lo 0.015% del potere magico. Cosa significa? Devi avere tanto potere magico per arrivare ad avere un valore più alto. Questo significa che, facciamo l'esempio, torniamo un attimo in base a prendere un po' di potere magico, così che arriviamo a valori più alti. Giusto per dire, con 100 di potere magico si parla dell'1,7% in più. Capite come comunque devi avere tanto potere magico per fare lo stesso danno di prima, ma adesso, nel momento in cui hai più potere magico, cominci a fare più danno puro di prima con questa W. Una piccola, piccolissima gioia per i tank, nel senso che vogliono tutti soffrire perché dicono basta, basta per favore, smettetela di mettere danni puri nei loro ki. Che la gente è molto convinta che i danni puri siano comodi contro gli squishy. Sono molto più comodi contro i tank. Molto più comodi contro i tank. Quindi, W fa danno puro, fa meno danno di prima in early game, ma scala meglio di prima nelle fasi più avanzate di partita. Buona cosa, capisco l'idea di ribilanciarla, torno ad avere più danno dopo, più desso che prima, così che non rendi troppo dominante la fase di corsia. Non un grandissimo fan, ecco, mettiamola semplicemente così. Andiamo avanti sulla E. La E è un'altra di quelle spell che invece ha subito dei reworkini un pochino più grossini, ma proprio più grossini. Allora, meno danno di base, si parla dai 10 ai 30 danni in meno, dipendentemente dal livello della E. L'angolo però di, scusate, l'angolo di scatter è passato da essere un cono stretto di 34 gradi a un cono un po' più largo di 56 gradi. Nella versione di base, quindi, ottimo buff, rende più facile cercare certi stordimenti. E una cosa figa che adesso puoi fare è col fatto che lanci immediatamente due sfere e tirare stordimenti in due direzioni diverse. Cosa che io adoro con questo nuovo kit di Syndra, perché vuol dire proprio... quello dà la sensazione di limitless power, cioè di potere illimitato. È proprio... è figo! Non c'è altro modo da dire, è figo come concetto. Il cooldown viene normalizzato a 15 secondi. Fissi invece di scalare, dipendentemente dal livello. Prima era 18-14, adesso è 15 secondi. La durata dello stordimento viene ridotta da un secondo e mezzo a un secondo e 25 secondi. E quindi... Un secondo e 25, sì. Perché non serviva a ripeterlo. L'apro va tutto bene. Una cosa che hanno modificato è che puoi fare... Puoi fallire meno spesso le combo con QE. Che... Semplicemente prima se eri un pochino troppo veloce. Cosa succedeva? Praticamente lo stordimento. La E, l'animazione della E, non partiva prima di quando la Q atterrava e quindi non andava a segno. Adesso hanno reso un pochino più facile questa combo. Non devi trovare il timing perfetto. Ma la cosa era sensata da inserire perché in generale non... Non aveva molto senso il fatto che la tua E partisse e non potevi tirare un insta combo per stordire qualcuno. È sempre stata una delle piccole debolezze di Syndra. Inserite inizialmente apposta ma poi è clunky, è sfak, la meccanica è proprio macchinosa e inutile. E quindi capisco l'idea di andare a togliere questa cosa e dire, ragazze, se piazzate QE insieme, stordite il bersaglio di fronte a voi. Fine. È il motivo anche per cui hanno ridotto la durata dello stordimento. in questo modo non hai un stordimento troppo facile che dura un pochino troppo a lungo. Cosa succede nel momento in cui si potenzia 80 frammenti di furia? Arrivo. Nel momento in cui arriviamo a 80 frammenti di furia, la E diventa leggermente più ampia. Ma leggermente più ampia, eh? Leggermente più ampia, 0,25x. La E diventa un cono di... di 84 gradi. Ora, io non vorrei dire, ma se una Syndra riesce a mancare una sfera con 84 gradi di angolo, perdonami, ma tesina pippa. Ma proprio una pippa al sugo. Cioè, puoi piazzare una sfera qua e una sfera qua e tirare due stordi 22 direzioni totalmente opposte. Fa un po' ridere. Cioè, immaginatevi essere gancati da qualcuno, uno da qua e uno da qua. Syndra fa così e dice Bella! E se ne va via. Cioè... È un po' ridicolo. E in tutto questo, se tu non colpisci lo stordimento, ma semplicemente colpisci la E, il nemico è rallentato del 70% per un secondo e 25. Quindi ci sono gli assassini là che tipo fanno... Porco cane, ma che cazzo è sta roba? Perché sono fermo immobile? Mi ha segato le gambe sta stronza maledizione. Sì, cioè, non riesco a immaginarmelo diversamente. Questo è proprio un modo per dire fottetevi assassini di merda. Cioè... Ok che devi avere 80 frammenti e quindi in fase di corsia non tornerà minimamente utile. Capite che devo essere a livello 13, che quindi ho ottenuto 12 per 5, 60 frammenti e 20 li ho presi dai minion. Dai minion, dai pupazzi colpendo i campioni. Quindi devo aver colpito i campioni abbastanza volte, devo aver... l'astitato ogni singolo minion cannone, perché non si generano ogni ondata, ma si generano ogni tre ondate. Quindi, tipo, a meno che non spammi aggressioni sul tuo avversario, non ci arrivi in fretta a 80 stack di frammenti di furia. Ok, questo grosso buff che non mi aspettavo sulla E, cioè, è proprio grosso questo buff. Mamma mia, ogni volta che guardo il cono mi sento in colpa. Oh, mi sento in colpa. Mai in colpa, però, quanto quello che stiamo per andare a vedere. La Suprema. Ho già potenziato a 100 in modo da avere effettivamente quel massimo efficienza e mi sono nivellato al 18 per comodità di tutti. Partiamo da una nuova passiva della Suprema. Le sfere oscure ottengono 10 abiti haste per ogni rank di Suprema che ottieni. Quindi adesso, come potete vedere, è 5 secondi. Non ho oggetti di abiti haste. Prima era 5 secondi 87, perché ho 10 di abiti haste dalle mie rune. Potete capire come comunque torna comodo, non ti porta ad avere il cooldown delle sfere come prima, ma ti porta ad avere più cariche, più in fretta, che quello non fa mai male. Adesso però, la Suprema di Syndra va a fare meno danno flat. Dici, yeee, meno danno flat, sono 10 danni meno per sfera, 20 danni meno per sfera dal secondo e terzo rank. Buona cosa, no? Riducono anche lo skinning col potere magico, evviva! Hanno abbassato un po' il burst di Syndra. E poi leggi che cosa succede a 100 frammenti? Nel momento in cui sei a 100 frammenti di furia, ci vuole tempo per ottenere questo potenziamento. Nel momento in cui arrivi a 100 frammenti di furia, la Suprema fa esecuzione garantita sui nemici che hanno meno del 15% di vita. Scusa, come? Allora, per dare una misura, perché penso che questa sia una misura che per molti tilterà, il 15% di vita vuol dire per un campione da 1000 HP sono 120 HP. Per un campione a 2000 HP sono 300 HP. Per un campione a 3000 HP, quindi cominciamo a pensare a delle frontline, sono 450 HP. Per un campione a 4000 HP sono 600 HP. Per assurdo, questa Suprema è molto più forte, molto più forte, contro campioni frontline che contro campioni squishy. Perché, parliamoci chiaro, una combo di base mi fa più che sufficiente danno senza nemmeno tirare fuori a Suprema per un campione fragile. Cioè, nel momento in cui io tiro la Suprema sono sicuro che è morto, sto letteralmente colpendo un cadavere a quel punto. Ma contro i tank è una roba assurda. Cioè, per assurdo adesso Syndra è quasi invogliata ad aspettare che un tank si tanki il proprio team in frontline e poi gli tiri tutta la combo in faccia. Tutta. Pur di metterlo in difficoltà e mandarlo o in base morto o in base con uno sputo di vita. Perché tanto poi hai le sfere e il tuo danno ce l'hai comunque. Non è che dici ah, adesso mirerai sempre ai tank. Sia chiaro, sto messaggio passi bene. Ovviamente non dovete sempre usarla contro i tank. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che per assurdo un campione da bars che dovrebbe essere concepito attorno all'idea di funziono bene contro campioni fragili e non bene contro le frontline le hanno dato un metodo per funzionare bene contro le frontline che prima il danno pure a W già quello era buono ma adesso con questo è tipo porca puttana porca puttana questa è veramente forte ma veramente tanto forte ti dà anche la garanzia che un campione fragile non fugga via nel momento in cui tu fai una full combo quindi prima ho detto si hai già abbastanza danno in base se fai una combo perfetta spoiler 99% di noi fanno cacare a questo gioco e non fanno una combo perfetta regolarmente su sindra poi qualcuno nei commenti arriverà a dire che lo fa sono sicuro vi vedo bastardi dicono eh no ma io la faccio sempre la combo perfetta e allora ti dico scemo a usare la ulti allora perché non ti serve ma se non fai la combo perfetta su sindra cosa succede se un campione viene già danneggiato dai tuoi alleati è un campione fragile ma importante che deve morire allora cosa fai tu premi R sei sicuro che muoia perché c'è quel 15% di esecuzione se le tue sfere non fanno abbastanza danno per portare sotto il 15% di esecuzione perdoniamo vuol dire che o sei veramente dietro o fai veramente cacare a livello di quello che hai fatto all'interno della partita sindra è è bella strong ma per farvi capire l'ultima porzione della passiva arrivo un attimo devo caricare un pochino le sfere allora qua siamo con una sindra che ha 650 nene di api con una full build e quindi diamo una proporzione di quello che è una full combo una full combo come potete vedere fa un bel po' di danno non è che sia una delle robe più morbide da andare ad affrontare aspettate che ottenga il 15% di potere magica in più datemi un attimo dopo aver colpito un po' i dummies sono passato da quel 659 di prima a 732 è una full build ok fino a qua ci siamo tutti quanti e il danno puro della W in più su una singola sfera una sfera come potete vedere fa i suoi 859 danni flat su un personaggio a zero in resistenza magica quindi non me ne vogliate la W sono su questo bersaglio c'era anche il Luden prima che qualcuno strilli perché fa 915 danni ha fatto comunque i suoi 180 danni in più in più si parla di full late game questo è un comunque un campione con un range ridotto sindra quindi dici non è che ha la combo più facile del mondo che può fare senza problemi devi comunque avvicinarti per cercare certi stordimenti certe combo allo stesso tempo penso sì però se ci si avvicina se ci riesce ad arrivare in range è probabile tu sia morto che posso capire l'idea hai preso il concetto del potere senza limiti le hai tolto un po' di early game power e hai cambiato l'identità del campione in un mid to late game burst champion ci sta magari ritocchiamo i numeri un po' verso il basso però per favore voi che ne pensate signore e signori questo è quanto per questo video e noi ci vediamo al prossimo